Pronti per la convocazione della conferenza dei servizi per affrontare e cercare di risolvere il problema polveri sottili sulla statale 18 tra scafati e vietri sul mare. E' stato fissato per domani 14 settembre alle ore 11 a Palazzo di Città Nocere Inferiore l'incontro tra il sindaco di Cava dei Tirreni Vincenzo Servalli ed il primo cittadino nocerino Maglio Torquato. Ha prontata la lettera di convocazione per la conferenza dei servizi per affrontare dunque la problematica del traffico e del conseguente inquinamento sull'arteria vialia che va da scafati fino a vietri sul mare. I due sindaci dopo il faccia a faccia della scorsa settimana domani si incontreranno per apporre la firma al documento di convocazione. Intanto questa mattina facendo seguito a quanto richiesto dall'amministrazione comunale nocerina nel mese di giugno è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici dell'ARPAC con la polizia locale e i membri dell'ufficio ambiente sul territorio di Nocere Inferiore. I rilievi hanno interessato i punti critici per smog dell'intera città. In particolare è stata fatta richiesta di collocare un misuratore di metalli pesanti potenzialmente dispersi nell'aria presso il salto di quota del torrente Solofrana in via Pucci all'incrocio con via Bosco Lucarelli. Sono stati inoltre effettuati diversi sopralluoghi per verificare il sito più idoneo al posizionamento di una centralina mobile di analisi per smog richiesta al fine di monitorare in modo ancora più puntuale le condizioni dell'aria in un'altra zona della città. Probabilmente l'impianto sarà posizionato all'incrocio tra via Napoli e via Stuti.